Per quanto riguarda questa partita, credo che fino al gol di Giacomo ci siamo espressi come dovevamo fare. Forse abbiamo creato poche situazioni negli ultimi 16 metri, però abbiamo fatto quello che abbiamo provato, cercare di lavorare sugli esterni, cercare di fare qualche passaggio in più e cercare di costringerli a difendere. Giacomo è riuscito poi su una situazione dove siamo riusciti ad andare dalla parte opposta, ha tirato fuori questo gran gol. Credo che dopo abbiamo un po' sofferto la stanchezza, tutte queste partite ravvicinate, però penso che da una parte o dall'altra un gesto tecnico così poteva far ottenere la vittoria. Sono contento che l'abbia fatto Giacomo, poi ci sta anche che potevamo raddoppiare con lui del lato il portiere, ci sta pure che potevamo prendere gol, però l'analisi della partita penso che sia stata una partita bella, dove noi sono contento perché non abbiamo avuto nessun timore del Catania e penso che se abbiamo tenuto questa vittoria non abbiamo rubato niente e sono convinto che sono queste le prestazioni che fanno crescere autostima perché contro una grande squadra come il Catania riuscire ad avere la personalità di giocare per noi è un grande successo. Per quanto riguarda la partita di Castellammare, sinceramente non ci ho mai pensato, ho chiesto solamente adesso il risultato, ma così perché mi piace guardare tutti i risultati del nostro girone, mancano ancora tante partite, è ancora lunga, l'abbiamo vinta noi oggi, sono contento perché vincere aiuta sempre, vincere ti fa allenare col sorriso, ma ancora è lunga, mancano tante partite, qualche situazione dove anche oggi dobbiamo cercare di migliorare, c'è, situazioni dove cresciamo in maniera efficace c'è anche oggi, andiamo avanti e cerchiamo di affrontare già il prossimo impegno. Oggi si affrontavano due difese fortissime, le meno battute del campionato ed è chiaro che anche se hai un vantaggio che può essere il vento non riesci mai ad arrivare negli ultimi 20 metri, come è successo per noi e è successo anche per il Catania. Le palle inattive potevano essere determinanti, è stata una parata di pisteri importante, un palo di lodi e su una grande azione nostra abbiamo trovato il vantaggio, però penso che il fatto di aver visto poche occasioni da gol ha dato merito alle due difese, ripeto, le meno battute del campionato si sono comportate bene, hanno concesso poco ed è questo secondo me il motivo. Nel secondo tempo ho cercato di inserire più qualità e più dimestichezza nel gestire il pallone di Michele Franco, è anche uno che ha tempi di inserimento, è un ragazzo che gli piace accompagnare l'azione offensiva e credo che questa sia stata una mossa giusta. Speravo in qualcosina in più all'ingresso di Inzolà, però ripeto, quando affronti una difesa così forte è dura, molto dura, mi dispiace per l'espulsione perché non lo so, non l'ho visto, non so cosa ha fatto, gli chiederò alla ripresa degli allenamenti. L'approccio del secondo tempo è stato diverso rispetto al primo, siamo riusciti ad arrivare con più frequenza sugli esterni, da un cross importante è venuto il gol, però, ripeto, i miei hanno fatto tutto quello che ci eravamo detti, continuare a girare e rigirare per farli correre, farli stancare, ci siamo riusciti, da un traversone dove abbiamo ricercato questa situazione è venuto il gol e siamo contenti. È normale che non è stata una partita dove è creato una marea di palle gol, ma né noi né loro, però è una partita combattuta tra due squadre che in questo momento sono in grande forma, noi non perdiamo da tanto tempo, loro arrivavano da un periodo di grande forma e penso che sia stata una bella partita. Devo dire che la stanchezza si è fatta sentire negli ultimi dieci minuti, adesso perdiamo Fedato, chiaramente penso sia uno stiramento, perdiamo Inzolà per l'espulsione, dobbiamo recuperare le energie perché lunedì c'è un'altra partita, tutte difficili, come sapete, penso che sia questa la nostra forza perché affrontare tutte le gare con la giusta concentrazione per noi deve essere la normalità e perdere questi due elementi per noi per la prossima gara non è un qualcosa di positivo, ma ci siamo abituati, faremo di necessità per tu e ci adegueremo alla situazione. Quello è il parere dell'allenatore e della squadra avversaria, io ho detto prima che la nostra vittoria ci può stare e non abbiamo rubato nulla, abbiamo costruito i presupposti per vincerla, poi è normale, abbiamo affrontato il Catania, se al Catania non concedi neanche una palla a gol, se è una squadra di extraterrestri, hanno avuto due cross, la punizione, anche noi siamo riusciti ad essere pericolosi su altre due o tre situazioni, però per noi, ripeto, aver affrontato una squadra come il Catania che nell'ultimo periodo sta dimostrando di essere la squadra stellare, affrontarla con questa personalità, con questa spregiudicatezza, con questa voglia di avere sempre il palleggio, per me è come una vittoria, poi è arrivata anche con un bel gol e quindi sono contento. Poi per quanto riguarda Tulli e Fedato, c'erano determinate strategie, cercare di arrivare pronti via con l'uno contro uno di Fedato sugli esterni, di Ferretti, poi avere le armi a partita in corso con Tulli, con Zola, con D'Ambros, quelle sono strategie che si cercano di attuare, non l'avrei fatto, cioè non sono contento del cambio forzato per Fedato, quello sicuramente, però Giacomo se la gente entra così, va fuori, inizia dalla panchina, entra così, è determinata, per noi è qualcosa di straordinario, non è la prima volta che chi entra ci fa vincere la gara e continuiamo su questa strada che è la strada giusta. Non è la nostra disposizione, è la disposizione del Catania che avendo il trequartista vado a oscurare il palleggio del nostro play, ma in quei casi lì Lodi annulla Togordò, Togordò annulla Lodi, è un uno contro uno e chi è più bravo vince il duello. È normale che in quelle situazioni il play non è avvantaggiato perché ha sempre un uomo alle calcagne e si liberano situazioni sugli esterni e l'ho detto poi ai ragazzi, l'ho detto anche a lui, oggi sarà una partita dove toccherai meno palloni, lavorerai su qualche contrasto, su qualche ripartenza, sporcare qualche pallone, non concedere spazio a Lodi come non lo concederà a te ed è normale che oggi abbia brillato meno del solito. Questo è dato dalla disposizione del Catania, quello sicuramente non è una nostra strategia andare a marcare gli avversari, li marchiamo ognuno nella propria zona, ma dato che nella zona di Togordò c'era Lodi, oggi Togordò non ha brillato come al solito. Sono contento per aver fatto un gol in più dell'avversario e contentissimo di non averlo subito perché continuiamo ad avere un grandissimo equilibrio quando non abbiamo la palla e riusciamo tutti a sacrificarci sotto la linea della palla e come ho detto prima siamo una delle difese meno battute e questo sacrificio ce lo dobbiamo portare da qui alla fine. Io vi ho sempre detto che la nostra idea è quella di offendere, cercare di fare un gol in più degli altri, ma detto questo non è che non dobbiamo cercare di lavorare quando non abbiamo la palla, anzi, quella è un'altra fase dove bisogna essere molto più attenti, però contento di entrambi le cose perché ci permette di vincere, di battere il Catania, di fare altri punti e di continuare a sognare.